Ci si comincia a chiedere sempre di più, quindi sempre più spesso, che fine abbiano fatto i concorrenti di questo grande fratello VIP che abbiamo seguito tantissimissimo e ci si aspettava soprattutto che Nikita Pelison fosse più o meno al centro dell'attenzione, un po' dappertutto, come succede o come è normale che sia, per darle lo spazio necessario per tributarla al meglio per la sua grandissima vittoria. Ma sta invece succedendo qualcosa di inaspettato, quindi il pubblico automaticamente ha cercato di capirne di più per vedere più che altro se c'era qualche problema al di sotto. E a quanto pare c'è una spiegazione praticamente ufficiale anticipata dal sito tvblog. Non è stato un momento straordinario quindi per la modella di Trieste che deve fare i conti con una decisione drastica che le cambierà totalmente i suoi piani, perché lei in mente qualcosa aveva. Ebbene sì, la vincitrice del GF VIP 7 è costretta a subire delle conseguenze. Nikita Pelison, dopo tanti mesi rinchiusa nella casa più spiata d'Italia, non si sarebbe mai aspettata di dover fare i conti con questa realtà, ma dovrà abituarsi al più presto per evitate di avere ulteriori contraccolpi psicologici. Infatti, c'è una serie di cose che i colleghi di tvblog hanno notato in questi ultimi giorni. Si attendono eventuali dichiarazioni dell'ex VIP ONA e dei vertici Mediaset, ma la situazione sarebbe ormai chiara. Se sui social network l'ex GF VIP 7 è decisamente molto attiva con i suoi follower, non si può dire lo stesso in televisione. Nikita Pelison non si è praticamente mai vista. Una volta terminato il reality show di Alfonso Signorini, e tvblog ha illustrato come stiano realmente le cose. Non sorprende che, per esempio, la vincitrice del grande fratello VIP, Nikita Pelison, sia letteralmente sparita dai palinsesti di Mediaset. Sembrano lontani anni luce i tempi del gioco di squadra del Biscione, che riempiva i suoi contenitori con dibattiti su dibattiti relativi alle dinamiche sviluppatesi all'interno della casa più spiata d'Italia. E c'è stato anche l'elenco dei programmi che hanno in effetti ignorato lei e il GF VIP 7, a mattino 5 come a pomeriggio 5, dove martedì il commento al GF VIP appena concluso è stato relegato ad un flash a fine diretta. Ma il segnale più clamoroso dell'isolamento di cui è oggetto il grande fratello VIP è evidentemente quello che arriva da Verissimo, trasmissione manifesto di Mediaset. Nel salotto di Silvia Toffanin da oltre un mese non c'è traccia dei concorrenti del GF VIP. Tutti sono stati esclusi, quindi l'intenzione di Pier Silvio Berlusconi è quella di cancellare al più presto quest'ultima edizione del GF VIP. Niente intervista né alla vincitrice, né tantomeno alle coppie che si sono create all'interno del programma, da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, a Oriana Marzoli con Daniele Dal Moro, passando per Edoardo Tavassi con Micoli Incorvaia, che solitamente attraggono l'interesse del pubblico abituato a un certo tipo di televisione. Un fatto sembra incontrovertibile. Mediaset sta provando a dimenticare l'edizione numero 7 del grande fratello VIP. Vedremo se cambierà qualcosa in futuro. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip, tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. E se volete potete trovarmi anche sul format di intrattenimento, basta cercare Gratta e Vinci con Max e lì ci divertiamo un po' con i famosi Gratta e Vinci, tanto pago io, che me frega. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.